oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare tra di loro gli animali come fa il cane? e il gatto? la sinello? la muca? la rana? la pecora? e il coccodrillo? e il coccodrillo? e il coccodrillo? e il coccodrillo? adesso ripetiamo se vogliamo ricordare come fanno per parlare tra di loro gli animali come fa il cane? e il gatto? la sinello? la mucca? la rana? la pecora? e il coccodrillo? e il coccodrillo? e il coccodrillo? avete capito come fa il coccodrillo? ciao